Il vicepresidente del Consiglio regionale Maddalena Fazzari esprime soddisfazione per la candidatura di Raffaele Fitto, attuale ministro per gli affari europei e le politiche di questione e il PNRR, a commissario europeo. La nostra premier Giorgia Meloni, afferma Fazzari, ha indicato il migliore, quello con le giuste competenze e la giusta esperienza per portare le istanze dell'Italia, di dove si prendono le decisioni. La designazione del ministro per gli affari europei e Raffaele Fitto al commissario europeo non può che riempirci di soddisfazione. Il lavoro di Raffaele Fitto, sottolinea ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, porterà grandi vantaggi all'Italia, ma anche al mezzogiorno. Di questo si dice appunto certa la consigliera di maggioranza che aggiunge. Il ministro Fitto è di casa in Basilicata e questo per la nostra regione non può che essere una buona notizia. Fazzari ha poi augurato un buon lavoro, affitto, in attesa che la nomina a nuovo commissario europeo divenga effettiva dopo le audizioni all'Europarlamento. Ricordiamo che la nuova Commissione europea, preceduta da Ursula von der Leyen, entrerà pienamente in funzione a partire dal prossimo novembre.